Linus, classe 1957, conduttore radiofonico e scrittore, è noto al grande pubblico per essere diventato direttore artistico di radio DJ e DJ TV. Nel 1991 è approdato a DJ Chiama Italia, programma di punta della radio, nel quale è stato affiancato dal 1997 da Nicola Savino, conduttore di Quelli che il Calcio. Di recente, nel 2013, Linus è tornato su Rai 2 in seconda serata con il talk show Il Grande Cocomero, mentre il 10 maggio 2014 ha commentato in diretta con Savino la finale dell'Eurovision Song Contest 2014, sempre sulla seconda rete della TV di Stato. Oggi, però, sul suo blog, Linus ha spiegato che il programma Il Grande Cocomero non verrà più trasmesso e che in Rai la situazione sarebbe desastrosa. Non ci sarà la seconda stagione del Grande Cocomero su Rai 2. La TV di Stato è alle prese con la spending review e tra i programmi che salteranno spicca quello di Linus, come ha confermato lo stesso speaker di Radio DJ. Non credo ci sarà una seconda stagione. Per due motivi molto semplici. In Rai non c'è una lira e, in funzione di questo, non c'è praticamente più la seconda serata. Quindi non ne hanno bisogno. Peccato. La seconda stagione poteva essere quella in cui si imparava dagli errori della prima. Ma non credo che morirà nessuno né il mio costume lamentarmi e fare la vittima. Quando mi capita di congedare qualcuno lo faccio sempre in buona fede, e mi piace pensarlo anche quando il 2 di picchi arriva a me. Ad aprile Linus era convinto che ci sarebbe stato un seguito del Grande Cocomero, come aveva dichiarato in un'intervista alla 3. L'orario è un po' difficile, il giovedì sera c'è qualsiasi cosa in TV. Il budget era ridotto all'osso, ma avevo la libertà di fare quello che volevo. La vorrei rifare un po' meglio, perché ora so da che parte devo migliorare, da che parte non devo andare. L'esperienza è fondamentale, aveva ammesso il direttore artistico di Radio DJ. Chi se ne frega.